A prevalere lo sgomento. Il giorno dopo la tentata strage di Halle, dove due persone hanno perso la vita per mano del 27enne neonazista Stefan Balliet, intenzionata ad uccidere quanti più ebrei possibile, colpendo la sinagoga proprio durante la festa dello Yom Kippur, si fa i conti con lo sconcerto. Le massime autorità tedesche visiteranno la sinagoga e la comunità ebraica della città. Il presidente della Repubblica, Steinmeier, terrà una conferenza stampa, ma non sarà facile supire le polemiche dopo le parole del presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei di Germania, Joseph Schuster, che ha definito scandalosa la mancanza di adeguate misure di sicurezza a protezione della sinagoga nei giorni di festività. I cittadini tedeschi di religione ebraica possono stare certi che siamo con loro con tutto il nostro cuore, ha dichiarato il vice cancelliere Olaf Scholz. Esprimiamo loro tutta la solidarietà di cui siamo capaci. È stata una notizia terribile e sono sicuro di non essere l'unico ad essere rimasto profondamente scioccato dall'accaduto. Dopo l'attacco in serata, la cancelliera Angela Merkel è andata alla nuova sinagoga di Berlino rispondendo a una chiamata che ha avuto grande eco sui social. Con l'hashtag Noi Restiamo Uniti si è diffusa la voce di un appuntamento spontaneo davanti alle sinagoge in segno di solidarietà. È un incubo per la comunità ebraica e per i tedeschi tutti. La polizia ha confermato che l'autore dell'attacco, un 27enne estremista di destra di nome Stefan Balliet, ha agito con la motivazione dell'antisemitismo. Non sembra ci siano complici, ma la polizia resta in allerta, continuando a schierare corpi armati per le strade della città.